Ciao a tutti, sono Federico Vedani e sono qua per presentarvi una delle nostre ricette del Winter Wonderland. L'abbiamo chiamata Mille Brownie. Incominciamo partendo da una base di brownie, realizzata con il nostro Sinfonia Gianduia Dark e dell'inclusione di Amarena. Sopra questo strato di brownie andiamo a decorarlo con dei ciuffi di namelaca al cioccolato bianco profumato al caffè. Adagiamo sopra la namelaca una placchetta di Sinfonia Gianduia fondente temperato e procediamo ancora con dell'altro brownie e degli altri ciuffi di namelaca. Decoriamo infine il dolce utilizzando la nuova Curvy Heart Leaf Dark di Dobla e la Chocolate Cherry.